Ecco, io sono parte di quei qualcuni, infatti guarda davvero, forse il primo impatto qualcuno mi ha detto che all'inizio aveva detto che non mi era piaciuta la Rincon, ma mi sono ricreduto subito, ti dirò che la Rincon la potrei usare nel mio caso dai 5.30 al chilometro fino ai 3.20, 3.15. Tutti sanno che a maggio 2019, oramai è passato più di un secolo fa, Jim Wosley, re del trail, ad un evento organizzato da OCA realizzò il primato mondiale delle 50 miglia, ossia poco più di 80 chilometri. Tra l'altro lo fece con le Carbon X che furono il modello di punta l'anno scorso dell'azienda americana. Pochi molto probabilmente sanno che contemporaneamente al lancio delle Carbon X furono anche lanciate le famose, oramai, Rincon, che sono scarpe un po' più leggere, un po' meno reattive, non dico veloce, altrimenti il solito amico di Instagram mi correggerebbe. Queste due scarpe, lo dico sinceramente, sono state considerate da molti, e sicuramente anche da noi, come una delle migliori innovazioni nel mercato del running del 2019. Non solo per il comportamento in corsa, ma anche per le specche, che ovviamente influenzano il modo in cui noi corriamo. Ma alla fine sono le sensazioni, dopo due ore di corsa, che ne fanno determinare il giudizio finale. La cosa che ci ha sorpreso è qui, un applauso a OCA, il prezzo è assolutamente adeguato all'offerta di questa tipologia di scarpa. E non è a caso che il solito amico di Instagram, nessuno dei soliti amici di Instagram, ci abbia chiesto di effettuare la recensione delle Rincon 2 o delle Carbon X SPE, perché ovviamente i due primi modelli molto popolari, ora sono davvero molto scontati. Come molto probabilmente saprete, abbiamo già recensito entrambe le scarpe, vi metto il link qua sopra, però ora che il livello è sicuramente migliorato, vorremmo fare un confronto all'americana tra queste due scarpe. Prima di passare la parola ad Andrea, che dal campo di Garbagnate ci parlerà del confronto delle scarpe, sappiate che ci sono due teorie, dei famosi a Fissionados OCA, che dicono le due seguenti cose alternative. Uno, la Rincon è semplicemente una Carbon X senza piastre in carbonio. Due, altri dicono che la velocità delle Rincon è determinata fondamentalmente dalla sua leggerezza e che a ritmi più elevati diventa più consigliabile utilizzare le Carbon X. Non so quanti ne abbiano testate entrambe, ad ogni modo ditemi cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Ora lascio la parola ad Andrea, che dal campo di Garbagnate, un po' disturbato dagli allunni della scuola media, ci parlerà in dettaglio di queste Carbon X e delle Rincon. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Stamattina facciamo un confronto tra due scarpe molto popolari sul canale, le OCA Rincon e le OCA Carbon X. Cosa ne pensi? Guarda, intanto facciamo questo video perché ormai le Rincon sono Rincon, non ho mai capito bene, sono ormai a fine vita, le ho praticamente distrutte, me le sono godute fino in fondo e quindi oggi era il giorno giusto per fare il video, credo che le cestinerò tra due o tre uscite. Secondo te a livello di grip, quale delle due sono migliori? Guarda, parti subito da una domanda un po' scomoda. Il problema grosso di tutte e due le scarpe è che su pista bianca sono davvero poco utilizzabili. Il problema è che la Carbon X su pista bianca non la useremo quasi mai perché la useremo sempre in gara o in pista, mentre la Rincon, che è una scarpa più da allenamento, ci capiterà spesso di usarla o almeno a me è capitato di usarla su pista bianca o su sterrato e diventano davvero difficili da spingere. Secondo te esteticamente quale delle due è migliore? Guarda, ti dirò, la Rincon vista dal sito internet non l'avrei mai comprata, anzi ti dirò che quando c'era da scegliere tra lei la Mac 2, avevo scelto la Mac 2 perché era più bellina, invece poi arrivata a casa alla fine erano più belle le Rincon delle Mac 2. Quindi diciamo che dal sito sono bruttine, dal vivo sono un po' più belle, mentre la Carbon X è figa sia su internet che dal vivo, quindi merita. E per quanto riguarda il peso, quale pesa meno o almeno a livello di percepito? Allora, percepito sono praticamente identici secondo me, al piede davvero non senti la differenza tra una e l'altra come peso, ma anche in mano, sarà che la Rincon ormai l'ho tirato via un centimetro di suola, quindi sembrano quasi uguali, forse addirittura sembra pesare un pochino di più la Carbon X. Sicuramente dal punto di vista meccanico pesa di più la Carbon X. E per quanto riguarda il comfort nell'utilizzo? Ecco, questo qua invece è il punto di forza di tutte e due, la Rincon secondo me è spaziale perché è una scarpa che nasce per fare delle corse più forti dal medio, e ai fartle che ha le ripetute, ma la utilizzerai tranquillamente, anzi è una scarpa che avrei usato sui lunghi maratona, la utilizzerai nelle corse lenti di tutti i giorni, anche se è un po' sprecata, e stessa cosa la Carbon X, è una scarpa che anche se ha la piastra in carbonio e non è praticamente flessibile, risulta di una comunità estrema. Se dovessi scegliere tra le due come comfort al piede è sicuramente meglio la Rincon, è ovvio che dopo tra comfort e prestazioni è sicuramente meglio la Carbon. Ci hanno detto comunque che sono entrambe strette, cosa dici? Allora guarda, il problema grosso è stato secondo me più sulla Rincon, allora non strette di pianta, ma di lunghezza secondo me no, diciamo che come scarpa sono fascianti sulla pianta, ahi arrivano quelli dalle medie, sono fascianti sulla pianta ma non abbondanti diciamo in lunghezza, direi giuste, sicuramente la Rincon ha dato problemi a molte persone per delle vesciche sull'interno del piede, verso i metatarsi, ma con la Carbon io e altre persone che l'hanno usata non hanno avuto nessun problema. L'abbiamo usata entrambe in pista durante questo periodo estivo, cosa dici della traspirabilità? Allora guarda, invece che la pista ti dico l'avventura in Sicilia, con le Pegasus sono arrivato che avevo i piedi fradici completamente, mentre con le Rincon praticamente zero, anche se hanno tantissima gomma potrebbe portare caldo, invece non è successo niente di brutto. Comunque hanno una tomaia davvero leggera e traspirante, forse ancora di più la Carbon, ma davvero non ci sono problemi secondo me di traspirabilità. A livello di protezione le utilizzeresti anche per dei lunghi oppure solamente per gare corte? Guarda, ti dico che le userei per qualsiasi roba, ci andrei a fare la spesa anche per dire, sono talmente comode tutte e due che davvero sono super. Diciamo che come protezione secondo me sono super tutte e due, se dovessi guardare il comfort, quindi per farci dei lunghi, sicuramente userei le Rincon. Le Carbon X comunque avendo la piastra in carbonio ed essendo un po' più rigide risultano un pochino meno confortevoli poi alla lunga distanza. Però per ammortizzazione sembrano davvero delle A3 super ammortizzate. E a livello di durata, forse punto debole di entrambe? Sì, guarda, le Rincon le ho portate, adesso non mi ricordo, 500-600 km circa, devastata completamente la suola, c'è da dire che appena le ho prese in mano le ho distrutte subito sotto. Poi hanno tenuto comunque, non è che dici che l'ammortizzazione o il grip hanno perso, anzi, per assurdo il grip adesso su asfalto è ancora molto buono. La Carbon X è una scarpa comunque che si scarica relativamente presto per colpa del carbonio che non risponde più bene e vabbè la suola è già abbastanza piatta, quindi si lisa già subito velocemente. Infine, ultima domanda, a livello di prezzo, quale sceglieresti? Beh, io che sono una pezza, il prezzo è sempre la Rincon. Qua farei un discorso più sulla Carbon X rispetto alla Vapor. Diciamo che per il prezzo la Carbon X è una super scarpa valida, è una valida alternativa alla Vapor Fly e alla Vapor Next, quindi diciamo che per le gare, se non ho quelle smagne di avere la scarpa super performante, prenderei questa che è un pelino, ma proprio un pelino sotto alle Nike, mentre per tutti i giorni e per assurdo per tante gare prenderei una Rincon. Comunque in maratona fa la sua porca figura e secondo me anche in mezza maratona. Raccontaci a livello di velocità quale delle due utilizzeresti e per quale distanze. Sappiamo che secondo alcuni la Rincon è una Carbon X senza la piastra in carbonio. Ecco, io sono parte di quei qualcuni, infatti, guarda davvero, forse il primo impatto qualcuno mi ha detto che all'inizio aveva detto che non mi era piaciuta la Rincon, ma mi sono ricreduto subito. Ti dirò che la Rincon la potrei usare nel mio caso dai 5,30 al chilometro fino ai 3,20, 3,15. Mentre per quello step successivo, quindi dei corti veloci, delle ripetute sui 1000, sui 2000, sui 3000, quindi dei ritmi tra i 3,05 e 3 al chilometro, sicuramente una Carbon X. Diciamo che mi piangerebbe anche meno il cuore, perché adesso ho visto delle mega offerte anche a 100 euro e per fare pista non è un problema. Mi sono ritrovato qualche volta a fare delle piste con sulle Vaporfly e mi piangeva il cuore, perché comunque le avevo pagate quasi a prezzo pieno. Ultima domanda, quando testeremo i modelli successivi che sono comunque già usciti? Allora, la Rincon 2 l'ho già puntata io, sperando che le facciano le maratone, volevo provare a fare una maratona di allenamento con le Rincon 2 e la S.P.E. vediamo che avevo quel mezzo dubbio che non era cambiato chissà quanto e per il prezzo che aveva adesso non ne valeva tanto la pena. Ad ogni modo noi siamo recensori, testeremo anche questo. Recensori io povero. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, nei prossimi giorni parleremo ancora di recensioni di scarpe da corsa, ma soprattutto vi racconterò come la tecnologia sta evolvendo nel mondo del podismo amatoriale. Non dimenticatevi di votare una delle sette scarpe, metto il link qui sopra, che vorreste recensire sul canale nelle prossime settimane. Stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao.